Il 20 settembre gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum sul taglio dei parlamentari. Si passa da 945 parlamentari a 600 parlamentari con un risparmio di centinaia di migliaia di euro al giorno che reinvestiremo in imprese, in famiglie, in aiuti alle persone e in lavoro. Bene, questo lo decideranno gli italiani il 20 settembre. Quasi nessuno sa che il 20 e 21 settembre si vota il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. È un provvedimento che farà peggiorare il funzionamento del nostro Parlamento e che ridurrà la democrazia, taglierà la rappresentanza dei cittadini italiani. Noi siamo per il no, ma vogliamo informazione, vogliamo permettere ai cittadini di conoscere prima di decidere.